Allora, Giuseppe Filice, Vice Sindaco del Comune di Cleto, questa mattina c'è il camper per la donazione proprio del sangue del Davis e ci sono persone che si stanno avvicinando, anche tu, come tutti gli altri cittadini, doni il sangue. L'importanza, insomma, di questo gesto? Donare il sangue è molto importante, soprattutto per i giovani perché il sangue dei giovani è molto più sano rispetto ad una persona che è più avanti negli anni e quindi magari ha avuto delle patologie. Donare è ancora importante perché, come sappiamo, negli anni 70-80 è arrivato plasma sangue, specialmente dai paesi africani, che ha comportato la diffusione di malattie molto brutte come l'epatite, l'HIV, che in Italia oggi costituiscono una morte silenziosa perché non se ne parla, però molte persone hanno perso o perdono la vita o vivono con drammi bruttissimi proprio perché hanno contratto queste malattie laddove il sangue non era stato opportunamente controllato. Grazie a tutti!